Presenza Cardamone, oggi vengono presentati i primi risultati dopo 10 mesi di attività. Qual è il primo bilancio che si può fare? Un bilancio positivo perché come abbiamo sviscerato in conferenza stampa, un'attività di un consiglio comunale che si è caratterizzato per una efficacia e una efficienza. Una concentrazione di pratiche che sono state evase in 10 mesi rispetto a un passato che traccia un bilancio al di sotto della nostra media. Quindi tematiche importanti che hanno visto quest'Aula affrontare dalla sanità, dalla metropolitana di superficie, sul dissesto ideologico e idrogeologico e tante altre problematiche. Per passare poi all'innovazione che questa Presidenza ha fatto per quanto concerne i rapporti con i consiglieri comunali. Cito un esempio, un consiglio comunale prima aveva un costo di 500 euro a convocazione, quindi con un dispendio di economia e di risorse umane. Oggi la convocazione del consiglio comunale avviene per il tramite della posta elettronica e quindi un sms. Quindi tutti noi conosciamo il costo di un messaggio della posta elettronica. Abbattuti quindi i costi, all'insegna quindi di quella che è oggi l'intento di questa amministrazione, di ridurre i costi il più possibile. Così come è stato fatto anche con i fondi dei gruppi, mentre prima avevamo un bilancio di 100-120 mila euro annui per ogni divisa tra i gruppi consigliari, oggi questo capitolo è stato ridotto a zero. Vicepresidente Guerriero, oggi sono stati presentati i primi risultati dopo 10 mesi di attività del Consiglio Comunale. Secondo lei è un bilancio positivo questo? Ritengo che è un bilancio che porta a dire che l'attività amministrativa sta andando bene, le presenze consigliari danno il loro notevolissimo contributo. C'è un'attività in fermento, questo sì, mi sento di dirlo tranquillamente. Ci sono alcuni aspetti che vanno ancora chiariti e anche bene e poi vediamo un attimino strada facendo quello che ci viene a essere sottoposto. Io sono il vicepresidente del Consiglio Comunale ma sono anche un esponente della minoranza del Consiglio. Però devo dire la verità, reputo che ci sia un Consiglio qualificato dal punto di vista anche delle risorse umane che esprime come consiglieri. Ci sono delle giovani leve che stanno dando grande eslancio all'amministrazione sia da un lato che dall'altro. Penso che si possa costruire un buon percorso soprattutto per il futuro. Si è parlato di numeri, di risparmio ma pensa che manchi ancora qualcosa magari a livello sinergico tra i due schieramenti per far funzionare al massimo questo Consiglio Comunale? Beh io penso che a livello sinergico manca quel pizzico che ci farebbe fare un salto di qualità in maniera notevole che è il senso di responsabilità che spesso e volentieri viene ad essere smarrito con atti di forza che servono a ben poco dentro un'amministrazione che vive le sofferenze della quotidianità. Si può fare ancora tanto ma il tanto che si dovrà fare e che mi auguro si possa continuare a fare si dovrà fare esclusivamente nell'interesse della cittadinanza, questa non c'è ombra di dubbio ma con la condivisione da parte degli entrambi gli schieramenti. Diversamente rischiamo nuovamente come già avvenuto in passato un blackout di carattere politico istituzionale.